Quali sono le tue aspettative per oggi? Spero di dare il massimo di me perché comunque mi sono impegnata in questi cinque anni quindi cerco di stare tranquilla e dare il meglio e vedremo come andrà però sì, bene insomma, dai! Io ho dovuto creare un pacchetto turistico a domanda per il corso che ho fatto che è quello turistico e mi è piaciuto molto e penso sia un bel lavoro comunque che mi ha convolto e mi è piaciuto. Mentre per l'analisi del testo come ti senti? Eh, più me, cioè abbastanza pronta però non ti sa mai quindi un po' di ansia. Se potessi scegliere, che autore sceglieresti? D'annunzio. D'annunzio.